eccoci qua ragazzi in un nuovo video come avevo spiegato un po su instagram avevo comprato lo scarico per la benelli ho comprato lo scarico della rose italia azienda che produce scarichi sportivi mi ero già servito da loro per altre moto e producono davvero degli scarichi fantastici con un ottimo sound quindi vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like e seguitemi anche su instagram per rimanere sempre aggiornati sulle novità andiamo a fare l'unboxing insieme e poi andiamo a montarlo sulla moto ok ragazzi andiamo a farlo un box insieme ci sarà il primo raccordo ecco a me mostrata ok ragazzi adesso andremo a togliere lo scarico originale andremo a togliere questo da 13 qua per togliere la fascetta e con una brugola da 8 toglieremo pure questo e con una brugola da 8 ok 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 ecco 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 ok ecco 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 ok ok ragazzi lo scarico montato eccolo qui vi ricordo di stringere bene tutte le viti di mettere la molla e di stringere bene questa soprattutto questa che hai dal raccordo niente facciamo il test sound ok ragazzi io ho già fatto scaldare un pochettino la moto adesso facciamo il test sound con il db killer ora poi ve lo farò sentire anche senza db killer ok ragazzi il db killer si leva con un dado da 8 che ci sarà qui poi ora è calda quindi la togliamo con una pinza non passare al db killer la proviamo anche senza db killer è tutto un'altra cosa ragazzi non 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 Grazie a tutti. Ok ragazzi andiamo a provare lo scarico senza di bichine. Ragazzi ha un sound davvero fantastico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi il video è terminato. Per qualsiasi informazione fatemi sapere nei commenti. Traverte tutti i dettagli del video di dove ho comprato lo scarico sulla descrizione del video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.